Ciao a tutti ragazzi, oggi giocheremo a Brawl Stars che è un gioco che ho portato un po' di tempo fa però lo voglio per fare perché ho visto che mi viene piaciuto molto quindi giocheremo e non è lo speciale che ti iscritti ma domani oppure oggi, no, non c'è domani farò lo speciale 3 fissuti quindi giocheremo e grazie per i prezzi ragazzi veramente grazie a tutti per il supporto che ho fatto io, che è bellissima veramente grazie a tutti ovviamente oggi faremo una 6 partite con diversi blowers prima volevo provare un po' Emmons per far far off andiamo, prima ragazzi lasciate un like aggiungiamoci 10 like per l'episodio di blowers ok, cioè, ammintiché questo stradio, come vedete, è molto 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 però sempre dipende da quanti sono porti, chi non l'avesse capito c'ho 9000 porte cioè, quindi, se sei tenuto dai 9000 ok, prima round, prima round, vediamo il secondo se lo vinciamo invece la super ha un raggio molto più grande ma non più grande quindi prende più spazio, avete capito no? ah, c'è vinta, subito facciamo la prossima questa volta no, che è 8467 che non mi ricordavo male facciamo un'altra comment e poi vediamo il video ok, sono gli unici due che non ho vinto tanto allora, Emmons è un po' di poco perché sto... invece il video sto fatta ieri ieri, cioè, due giorni fa ok, allora ok, allora mi sta piacendo il video? mi sta piacendo il video? cioè, è molto... bello allora per ora non... a chi parlo? stavo dicendo per ora i miei compagni mi riscendano molto ok, mi sa che questa qua abbiamo persa vabbè, comunque vabbè, una c'è sta dai ma dico mi piacciono molto il fatto usano i palmenti non ci vuole un palmenti ma vabbè, sono andato tutti i palmenti e... agli occhi e... bella faccia che non ci vuole un palmento che non ci vuole un palmento da come giochiamo? 1,2,2 va bene, non farmi il palmento no, 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 no ho preso che qua è epica quell'altra era roncuna che non ci vuole un palmento e... un pochino po' oppure è mitica la mitica andava bene ok, abbiamo messo Bibi che... il suo raggio è questo molto piccolo vabbè, d'ha avvicinato il Bibi però è fortissima cioè, vi faccio vedere se... se c'è qualcuno guarda qui che è andato qui non è stupendo stupendo aia secondo me è forte adesso non vorrei dire che stiamo perdendo cioè non le stiamo perdendo stupendo aia 2,5,5 come? 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 no, 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 no e poi ragazzi vediamo cosa sta perdendo no, tada ecco 3 6 3 4 no, tada ecco 2 2 no, tada ecco 2 8 1 Sì ragazzi no, va bene, va niente ragazzi, è un gioco di strategia, cioè quindi io devo essere strategico. Questa è una rompa, una persona e una la mia preferita perché io colletto l'amo. Tosti cactus ma... Toggi è morto uno, quante fonte! Non mi ricordavo così forte. Ma spaccato! Oh, tappò! La zona non mi piace. La zona che non vuole faccio musica. Ragazzi grazie mille per tenete iscritti, lo ripeto, lasciateci un po' di spettico. 10 like e faccio il prossimo. Ce l'abbiamo persa. No, non è vero, non è vero. Se continuiamo così, avrò perso bene. Come abbiamo fatto? no ma la super servila, me la conservo va bene, va bene no dai no bravissimo bravissimo questa qua è un nostro non è vero che abbiamo vincito due però dico non è vero che abbiamo vincito due mamma mia non lo sapevo cioè come abbiamo fatto a vincere vabbè facciamo un'altra e non mi spiacchiamo di spiacchere spiacchiamo di vincerla allora a me piace Ems e Beeddy per due motivi Ems e spam una coniambra anche se non ci si vede spiacchiamo un poco anche se a me solo 10.000 volte per poter cambiare e poi la una con ok avete un mio becco per che si ti amo io aspetto qua ragazzi voi andate e e e ok questo è un momento che io mi piace Forse lo so ucciderlo E qua Ciao Stu No, ciao, bella Comunque vinco io, se non viene Quindi, dai Non so, comunque se non viene Anche se non viene Ok Arriviamo un po' Cioè facciamo qualche altra partita E qualche altra Con qualcun'altra e basta Facciamo tutte quattro partite Perché voglio veramente Anche se con Bull è un po' difficile Che io non lo so usare Non è perchè è difficile, perché non lo dovevo usare proprio Un blackmail Vado e muta Cioè, vedi che zappa quanto zappa Scà zappa troppo, basta Vedrima no Vorrei vedere un po' di potenziale Svi Ok, non posso fare prima, amazzare la testa Il Vendecini Miti Pacacca Caccacca, mancaccio Vabbè, ma io pure non lo so come usare le caccia più su come io l'ho trovata Anche perché è di grado basso, ecco Qui qua, il gilindro, qui qua Qui qua dai, no no No, me lo conosco la roba Guarda, guarda No, no, mi vieta, mi vieta Mi vieta No, me lo conosco C'è una caccia di fuoco Vabbè Vabbè Iniziamo con un altro che devo E' meglio che voglio fare Metto Enel Bello Che Marco Luis lo sarebbe benissimo Ecco Ecco Ti ce di ovazo Vabbè Vabbè Ecco Can E poi Mo Cristian Dai Ok Ok Da C'è, basta, vabbè, facciamo un'altra, aspettiamo di vincere la EVA anche se non c'è un'altra Non, non ce n'è, non c'è un'altra ma dai guarda 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 vabbè ragazzi per il video mi sia piaciuto ragazzi lasciate un bel like grazie per i tanti iscritti ciao